Siamo con la maglia rossa, signori signori, alla comando il 275, Tommaso Cortose, voi alla BNX ciclistica 8 attese, ci sono poi Cristiano Abruno e Riccardo Girego, BNX Pescampina, BNX Verona al quarto posto del numero 186, quindi Vittorio Sama e l'ultimo rendiglio, andiamo quindi Tommaso Cortose per Riccardo Girego, BNX Pescampinari e Cristiano Abruno e il quarto posto.